Dolore al gomito. Se ti è mai capitato di avere dolore nella parte esterna o nella parte interna del gomito, allora questo video fa proprio per te. Attento però, non ti darò esercizi come facciamo in tutti i nostri video, qua ti darò dei consigli teorici che so che ti possono sembrare noiosi, ma sono dei consigli che potrebbero aiutarti a risparmiare soldi in terapie inutili e darti le conoscenze per andare a ricercare la soluzione adatta al tuo caso. Partiamo subito con questo video. Io mi chiamo Klaus, sono un fisioterapista e il fondatore di Fisio Social. Se ci segui da un po' sai benissimo che la nostra filosofia è quella di insegnare ai nostri pazienti come far a risolvere determinati problemi. Infatti si dice che un fisioterapista ti fa il trattamento, ma un vero fisioterapista ti dà un insegnamento, non solo un insegnamento in termini di che esercizi fare, ma anche come riconoscere determinate problematiche del tuo corpo, come far a gestirle al meglio. Questa è la nostra filosofia e questo è quello che facciamo, quindi cercare di dare degli esercizi, dei consigli e delle strategie che una volta attuate ti guidino al meglio per poter risolvere il tuo problema. Quello che succede con la maggior parte delle problematiche al gomito, che purtroppo sono problematiche che tendono a cronicizzare spesso, è quello di andare a fare delle terapie passive, delle terapie strumentali che sono il laser, l'ultrasuono, la tecar, sono delle terapie che nella maggior parte dei casi esistono solo in Italia, sono terapie che non hanno evidenza scientifica della loro efficacia e la maggior parte degli studi che confrontano queste terapie con l'effetto placebo, e ti spiego che cosa vuol dire effetto placebo, se prendi un laser o una tecar o un ultrasuono e ad un paziente glielo fai accesa e ad un paziente glielo fai spenta il risultato che ottieni è molto sovrapponibile. Quindi questo è per farti capire che per risolvere una problematica soprattutto quando si tratta di cambiare il tessuto, di dare uno stimolo al tessuto per cui il tendine, per cui il muscolo vada a migliorare, a diventare più forte, a diventare più resiliente, non fa parte neanche del buonsenso che un qualche cosa del genere possa andare a cambiare la tipologia e la struttura di un tessuto. Di questa cosa parlo con molto passione perché è quello che ci ha spinti a creare il fisio social, è quello che ci ha spinti ad andare a fare dei video, ad andare a fare degli articoli, a creare appunto tutto questo lavoro per poter insegnare alle persone, per poter far passare quelle che sono le ultime ricerche scientifiche, farle diventare esercizi e consigli fruibili da tutti. Andiamo a vedere quindi le patologie più comuni a livello del gomito. La prima che conosciamo tutti è il gomito del tennista. Il gomito del tennista, o chiamato anche epicondilite, è un'infiammazione dei muscoli estensori che sono i muscoli che portano il polso in su e che portano le dita in su. questi muscoli si infiammano e portano quindi a dolore puntiforme a questo livello, portano a dolori nel stringere la mano, portano a dolore nel tirare sul polso e nel fare tutte le attività della vita quotidiana. Quello che si trova solitamente è questa parte qua, la parte delle epicondilite, quindi molto dolente se si va a premere l'ossicino che si sente qua, potrebbe essere rossa o addirittura molto calda nei casi proprio più estremi di infiammazione. Questo dolore tende purtroppo a cronicizzare, come tutte le tendiniti sono problematiche che richiedono tempo e soprattutto che richiedono un lavoro in termini di esercizi, non ci sono terapie che vadano a migliorare la tendinite. Quindi tranne i casi estremi in cui si incorre a chirurgia, tutti gli altri traggono beneficio da una gestione a 360 gradi del problema. Cosa vuol dire a 360 gradi? Andare a lavorare sul rinforzo muscolare, andare a lavorare sull'articolazione del gomito, andare a vedere se ci sono altri fattori esterni dai fattori meccanici che possono influenzare questo dolore, quindi stress, problematiche di tipo emotivo eccetera eccetera eccetera. Quindi questa è la vera riabilitazione, questo è quello che deve essere fatto per poter migliorare una problematica e non lo dico solo io ma lo dice anche la ricerca scientifica e lo dicono tutti gli studi in appoggio a questo, ok? A proposito di esercizi per il gomito del tennista ti lascio qua sopra un video in cui andiamo a vedere appunto quali esercizi fare per poter migliorare la sintomatologia dolorosa e risolvere la problematica della tendinite. La problematica opposta quindi in qualche modo al gomito del tennista è il gomito del golfista, cioè il dolore a livello dell'epitroclea che è l'osso interno, quindi in questo caso invece dell'infiammazione dei muscoli estensori abbiamo l'infiammazione dei muscoli flessori, cioè i muscoli che portano il polso in su e che chiudono la mano. Anche qui la sintomatologia è molto sovrapponibile quindi dolore nel chiudere forte il pugno, dolore contro resistenza quindi quando devo tirare il polso in questa direzione o dolore quando vado ad allungare questi muscoli. Anche qui vado a trovare dolore e fastidio quando premo l'ossicino qua davanti, infiammazione quindi sensazione di calore e quindi sensazione di calore e rossore nei casi più estremi a livello dell'epitroclea, quindi nella parte interna del gomito. Anche qui la situazione è appunto sovrapponibile quindi per risolvere la situazione bisogna andare a vedere il paziente alla situazione a 360 gradi e andare a vedere quali sono i fattori che vanno ad influenzare questo dolore che solitamente non sono solo fisici, cioè non sono solo meccanici ma possono esserci anche altri fattori, il metabolismo, la dieta, lo stress e tutta una serie di cose che va ad influenzare il dolore. Questo, parentesi, non vale solo per il gomito ma vale per tutti i dolori del nostro corpo. Quindi come si risolvono le tendiniti? Non si risolvono con il laser, non si risolvono con la tecare, non si risolvono con l'ultrasuono e soprattutto non si risolvono con il riposo. Il problema con le tendiniti è che molte persone smettendo di fare l'attività che provoca il dolore di solito sentono giovamento e questo proprio perché il tendine non lo sto usando ma la ricerca scientifica ci dice che il tendine che si mette a riposare tende solitamente a perdere ulteriormente le sue capacità di carico. Il tendine quella struttura che fa da tramite tra il muscolo e l'osso dove si attacca. Quindi il tendine del bicipite si attacca a livello del gomito e trasmette la forza prodotto dal muscolo bicipite a livello dell'avambraccio per farlo piegare. Quindi deve subire tanta tensione, deve subire tanto lavoro e quindi quando vado a sovraccaricare un tendine, soprattutto se lo faccio di colpo e soprattutto se lo faccio per tempi prolungati, questo si infiamma e mi porta a tendinite. Quello che va fatto solitamente è lasciare un qualche giorno di riposo in base alla situazione del singolo paziente e dopo una fase di riposo che nei casi più esagerati la fase di riposo significa una settimana o due settimane proprio esagerando, dopodiché si deve iniziare a fare un programma di lavoro con degli esercizi volti al miglioramento ed aumento della capacità di carico del tendine, quindi lo devo far lavorare. Sembra un controsenso, infatti per tanti anni è stato un controsenso e purtroppo tuttora in Italia è un qualche cosa che viene fatto purtroppo da pochi professionisti, da pochi fisioterapisti e che viene prescritta da pochi medici. Però è la cosa che ha aiutato centinaia di nostri pazienti a migliorare dalle tendiniti. Questo non vuol dire che facciamo le magie, facciamo guarire tutte le tendiniti, questo vuol dire che però facciamo e attuiamo una strategia che è scientificamente provata. La terza problematica in cui si incorre quando si parla di dolore al gomito è la sindrome del tunnel cubitale. È una sindrome da intrappolamento del nervo ulnare, che è il nervo che passa qua sotto. Se ti è mai capitato di sbattere il gomito sul tavolo o sulla porta da qualche parte, avrai sentito una bella scossa nella parte esterna dell'avambraccio fino alle ultime due dita anullare e mignolo. Ecco quello è il nervo ulnare, innerva queste due dita e quindi cosa succede quando c'è una sindrome da intrappolamento? Questo nervo viene infastidito, viene praticamente compresso a livello di questo tunnel e quindi inizia a dare problematiche di tipo sensitivo, quindi si perde la sensibilità oppure nei casi peggiori di tipo motorio, quindi si inizia a perdere forza nelle dita e a quel punto lì è già stata persa una parte della sensibilità. Per risolvere queste problematiche dipende quindi da che cosa è dovuto. Si possono provare a fare degli esercizi di neurodinamica che vanno a far scorrere il nervo, che vanno a dare mobilità al nervo e bisogna vedere se questa sindrome da intrappolamento è dovuta ad una anomalia anatomica, quindi un qualcosa che si ha dalla nascita oppure c'è stato un trauma, c'è stato un problema a livello del gomito che ha portato ad un cambio strutturale per cui il nervo si trova poi intrappolato. Quindi qual era il messaggio di questo video e come mai ho voluto fare questo video teorico e leggermente diverso dagli altri nostri video? Il motivo per cui ho fatto questo video è proprio quello di cercare di condividere quelle che sono le ultime ricerche scientifiche e che sono quelle che portano a veri risultati in termini di miglioramento, ok? E soprattutto di screditare quelle che sono le terapie che non hanno base scientifica e che non danno nessun effetto ai pazienti. Quindi speriamo che in Italia col passare degli anni queste terapie vengano messe fuori mercato e speriamo che magari con gli anni vengano prodotte, vengano innovate queste terapie e che vadano a migliorare quella che è la riabilitazione in Italia. Se vuoi migliorare il tuo stato di forma, il tuo stato di salute e risolvere dolori fisici ti invito ad iscriverti al nostro canale e lasciarci un bel like se questo video ti è piaciuto e ti ha dato delle informazioni nuove. Se invece vuoi migliorare i tuoi dolori tramite il nostro aiuto puoi farlo tramite il nostro programma specifico di cui ti lascio il link qua in basso. Grazie dell'attenzione e ci vediamo al prossimo video.